Bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono io il vostro per peggiore e oggi siamo qui in questo video Il secondo episodio di italian solcher nella prima puntata eccezionale cosa tropecce neri abbiamo vinto il torneo dopo aver ripetuto almeno cinque o sei volte ora Mi sono messo in testa un obiettivo quello di vincere il torneo soltanto con almeno tre tentativi cioè la metà la prossima volta due per uno e poi comincio già che devo vincere il torneo va proprio un botto un botto di video Io continuo sempre a dire scusate per la mia lunga assenza Per tutto il tempo che ci sto mettendo Che troppo escono un video almeno ogni due settimane lo so che poco ma non mi dovete dire niente perché Metto napoli Perché tra scuola amici e tanto altro non sto avendo per fare non sto avendo molto tempo per fare video Però ora che c'è tempo libero do il meglio di me cominciamo subito Basta parlare della mia vita privata Questa è tale ansorger Attenzione E tira a volo Rete Anzi lo fuori Attenzione mucchio selvaggio Attenzione tiro Rete Rete Sai dove c'è il nene Contro il chievo Uomo palla dentro No Tira Come cazzo la parata con i testicoli Un altro collega mi qualifico Qualifichiamoci prima a sto punto Tira a volo Goal E ci siamo qualificati Via Chi schifo Mamma Coppa di testa proprio la Axel Siamo alla seconda Volevo ringraziare i ragazzi che siamo quasi arrivati a 370 e passi iscritti E a quasi 90.000 più totali A 100.000 penso che farò qualche special Oh Goal C'è uno e un altro Attenzione Roberto Baggio E poi careca No Voleva l'incrocio il bastardo Oh Tira a volo Tira No Tira Calcia 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 No No perché Ma perché Tira Marò Ultima conclusione Ci giochiamo in tutto per tutto L'altesa è finita No Tira Mamma mia che schifo E il tempo 6.9 Mmm 69 Va bene Già abbiamo perso la prima occasione Se perderemo tre occasioni Dovrò cancellare il video Scherzo Parla dentro Goal In vantaggio Un altro Un altro Un altro Mamma mia Che filato Nell'angolino Sotto la doccia Ma che cazza parata Napoli Genova Attenzione Dopo l'azione di Lestien Va a Cagliecon La parata di Mattia Perin Sincero Ultima opportunità Mamma E' arrivato E' arrivato un messaggio Dalla NASA Che è stato preso Il satellite Colpito La caglieco La parata di Valentina Tiriamo subito Ma che culo No Mamma mia La testa è proprio a capo di cazzo Questo è Gargano Gargano Che schifo Ultima Ultima opportunità Devo fare Per forza Consecutivamente Devo tirare Subito Ok Già perso Se segno Sbaglio Neanche per Consolazione Ok Ho l'ultima Occasione Se fallisco Questa Dovrò Finire il video Conto Il Siena D'è che c'hanno Le marcature larghe Quelli del Siena Ma non mi puoi fare Questi tiri Ma vai in Cepa Guardate il personaggio Com'è fatto E' pelato Però un pelo Vicino all'orecchio Ma non capisco Sembra Inerland Che c'ha Quel coso in testa Quella patanella in testa Già se facciamo Un gol Lora Oh E cazzo Ehi Qualificato Palalta Palalta No Di tira Mamma Vabbè C'abbiamo una qualificazione Però Un altro gol Ci starebbe Traversa La linea Conto il Cesino Un'altra scuola scarsa E' a marcature larghe Ehi Si vaga Ha soltanto Un altro gol Vai Attenzione Mamma Chi schifo Mamma Ma E' il Degrato Attenzione Tenti Cannavaro No Cannavaro Mamma mia Attenzione Di testa No Ultime due occasioni Ci conviene Segnare Già ora Bu Headshot Ehi Buca le mani A portiere E così Ci daremo Una qualificazione Vabbè Qua fuori Andiamo a non cambiare Passiamo alle semifinali Andiamo a Berlino Peppe Anzi Nei quarti Contro il Bari Tutte squadre scarse Tidia Mamma mia Altre quattro occasioni Basta un solo gol Tira 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 a volo Mamma mia Ho capito Di testo a palle E basta Dobbiamo tirare Ecco ora 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 Ultime due occasioni Facciamo il gol ora Sennò dobbiamo Sennò dobbiamo puntare Tutto per tutto Alla fine Calcia No Una difesa di merda Di testa No Ma come cazzo L'ho parata Eliminati Devo finire il video Scontento Che cazzo Ho perso Tutte le occasioni Va bene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Commentate Usciranno altri video Io perché volevo Già fare un video Con la telecamera E scarica E tempo che carica Ho fatto un video così A cazzo E ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi